Mi toccare, mi toccare, mi toccare. Signor Mortara, suo figlio Edigardo è stato battezzato e ho l'ordine di prendere. Cosa? Un battesimo non si può annullare. Suo figlio non è più ebreo, suo figlio è cristiano. Lo porterete via? Sì. Mi taglieranno la testa, papà. Non ti faranno niente. È Gesù crocifisso. Il figlio di Dio. Ma dorme? No, è morto. Lo hanno ucciso gli ebrei. Figlio mio Edigardo, benvenuto. Questa è la tua famiglia adesso. Quando dobbiamo restare qui? Toccava se furbi. Solo a Dio devo rispondere. Io sono il Papa. Questo processo entrerà nella storia. Ma mio figlio... Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma. Salve Regina, mater misericordia. Siamo finiti. Siamo finiti. Viva la terra liberata! Vostro figlio è cristiano in età.